Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo le nostre cacce perché ovviamente non abbiamo finito. Non abbiamo finito perché abbiamo purtroppo Bygul o Beagle che al momento per me è inaccessibile perché appunto si trova in una zona dove devo proseguire necessariamente con la storia principale ma possiamo andare a prendere custode del sottosuolo. Tra i viandanti della Via Dorata circolano storie su un gigante di cristallo una bestia che si aggira tra i sentieri meno battuti illuminando gli oscuri canyon con l'inconfondibile bagliore blu dell'Ethere e tingendone le pareti con il sangue delle sue vittime. Se i nostri sospetti sono fondati e questo essere in realtà non è che un'altra creazione di ultima allora solo abbattendolo potremmo davvero iniziare a vivere dettando le nostre condizioni. Via del Titano a Dalmechia Quindi qui in questo caso dobbiamo andare a Dalmechia Via del Titano La Via del Titano, eccolo qua Via del Titano Quindi sarà probabilmente o di qua o di qua perché qua c'è uno slot quindi va bene Allora andiamo di qua e ci sbrighiamo prima e credo che qua possiamo andare anche senza tagli perché è abbastanza vicino in realtà da dove dobbiamo andare quindi direi che possiamo direttamente proseguire col Chocobo Allora lui probabilmente potrebbe darmi il nero acciaio che sto cercando per fabbricare la mia spada finale la Gotten D'Hamburg là come si chiama che è un nome molto particolare e sì probabilmente lui mi darà il nero acciaio che mi serve e anche l'altro e forse anche lo ricalco perché mi servono ricalco e nero acciaio quindi oh grazie bella sì mi sa che è qua sì sì eccolo qua ok sì sì lui l'abbiamo già affrontato Anathos Grado A tra l'altro quindi non è neanche un granchier e direi ultima se è me che vuoi sono proprio qui perché giustamente è creato da ultima quando abbiamo la combo perfetta non è neanche un granchier che è lo 42 tra l'altro quindi è anche bassino ma quando ha combo bahamut piotino no 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 vedete eccolo qua il nero acciaio vedi sconvigendo thanatos o il principe della morte che sarà sicuramente il prossimo ricercato che dovremmo andare a fare essi quindi thanatos lo abbiamo buttato giù il prossimo sarà il principe della morte perché penso che a sto punto sia l'ultimo bene alla prossima